la politica in un modo umano. Senta Bersani, i candidati, a proposito di dimagrire, si stanno sbizzarrendo nel fare fioretti. Allora le ricordo, Bonelli dei Verdi ha promesso che si tingerà in caso di vittoria elettorale una ciocca di capelli di verde. L'onorevole Morani del PD ha detto che si farà bionda e Bonaccini promette di dimagrire 8 chili. Faccio notare che tutti questi che fanno i fioretti sono di sinistra, quindi hanno una visione un po' mortificata dell'esistenza. Lei nel caso di vittoria elettorale della sinistra a cosa rinuncerebbe? Non dica ai chili che ha preso in queste settimane, a cos'altro rinuncerebbe? No, vabbè, magari metto su dei chili, ma se vincesse la sinistra invece di 35 giri ne farei 70 per farla vincere di più, per dar una mano a farla vincere di più. Poi, detta invece alla Berlusconi, prometto di farmi crescere i capelli. Allora mi associo, dove si firma? Adesso guardi questa clip che mette insieme gli spot della campagna elettorale. Do un consiglio a casa, portate i bambini davanti alla tv perché che...